La mia cella, inizio a preparare mentalmente una sorta di struttura per questo doku sulle feste, sui rave party, in chiave moderna, vedendolo un po' nell'ottica anche di ciò che la mia esperienza e i miei occhi hanno visto. Ne parlavo con degli amici, con delle amiche, il fatto che i media sostino, zoomino sulle scene intime, imbarazzanti, a me fanno solamente sorridere perché per esempio io girando per paesi come Torino o Milano, ma vedo un fracchissimo di gente con almeno una bottiglia in mano, un qualcosa in mano, quindi dovrei girare, zoomare e fare in modo che la gente percepisca che intorno si sono una massa di alcolisti. No? Oppure mi spiace che mi avessero visto tempo dietro nemmeno un po' tanto ubriaco fare delle allegre e simpatiche gag perché siamo tutti presi bene, quindi quello potrebbe essere considerato come una persona fuori controllo o barcollante, oh mon dieu, non lo vedi in giro però a picchiare, stuprare, urlare, rubare, spaccare qualcosa, ma barcolla, fra un'oretta si ripiglia, va a ballare, chi è intorno, gli amici che lo conoscono lo si tengono, ci si tiene tutti un po' sott'occhio, anche perché è chiaro, è altissimo il rischio proprio per chi non è tanto avezzo di perderti nell'arco di due secondi, il tempo di farmi accendere, sparire, sono cose che insomma i media, i vari bravi operatori, per quanto siano bravi dei vari local team e quanti di noi poi li troviamo dentro camuffati e quanti di noi li vogliamo colloquiare con noi e in qualche modo capire determinate situazioni. Mi soffermerò molto sul lato sociale, sul lato non tanto delle motivazioni che col tempo si sono per qualcuno un po' perse. Prendo atto e condivido un'affermazione di quella ragazza intervistata che ha detto il rave è politica, assolutamente sì, il rave è politica, è un'anti-politica e lo esporrò con concetti molto semplici, per esempio quella persona al mergafono che era probabilmente della forza dell'ordine, non so i gradi, che dicevano non siamo qui per voi, va benissimo, questo mi sa tanto di come quando noi occupiamo le case per dargli una nuova connotazione, una rivalutazione improprio perché non c'è altro modo a volte, casualmente salta fuori che lì c'era già un progetto, ora lì il caso è diverso. Non sono un tecnico ma ipotizzo e forse mi rendo anche conto che chi va a perlustrare, occupare, per organizzare e preparare gli eventi non è uno sproveduto cari miei, non sono degli sproveduti, non sono gente che si improvvisa, per quanto mi riguarda sono dei bravissimi artigiani perché spesso e volentieri i muri di casse sono costruiti, improprio, mettendoci dei soldi, in un certo qual senso queste persone fanno girare la vostra fottuta economia e sembra un paradosso ma è così. I media, ripeto, non omettono volontariamente determinate situazioni come non ho visto un'intervista sui vari gruppi di riduzione del danno, i vari gruppi neutrave, l'infoshock, i vari lab, persone che volontariamente, gratuitamente e persino con una preparazione al primo soccorso o in determinate situazioni che non vuole sostituirsi alla sanità ma vuole andarle incontro proprio per prevenire. Ci sono le zone chill out che sono posti dove te la vai lì a sbaccare, a fare anche la chiacchiera seria, profonda, intima, dove a volte mi è capitato di vedere e essere presente e favorire un certo tipo di aiuto psicologico di una persona che si è evidentemente alterata ma balla, canta, divertiti, sorridi, fai socia. Ho visto persone in un quarto d'ora, mezz'ora ripigliarsi in una maniera che... Uh! O magari... Mangiati una banana, mangia qualcosa, prendi aria. Cioè non è che si svalì tutti ed esclusivamente a spaccharsi a merda per poi andare in giro a fare i chesini. Poi le notizie vanno date anche con dovuta correttezza. Le persone abbandonano, cominciano ad abbandonare la festa. Io sono uno di quelli, perché quelli che erano con me dovevano lavorare. Dovevano mantenere fede a determinati impegni, come tutte le persone serie al mondo. Ma vanno a sto tipo di feste. Hanno l'accortezza di, a una certa ora, smettere, ripigliarsi per poter guidare lucidi, stanchi, è chiaro. Però queste sono anche le notizie. Ma non per far cambiare idea, perché il nostro intento non è assolutamente far cambiare idea. È dare una spiegazione anche del perché. Le domande che mi pongono tant'idea sono perché non vi affittate il capannone, non vi affittate i terreni come tutti. Come tutti chi? Queste strutture che sono abbandonate da 20-30 anni, spesso e volentieri arrivano ancora dall'epoca in cui si parlava dello smaltimento di amianto, per esempio. Ancora oggi c'è gente che si ammala. Quindi la parte nostra politica è anche far presente, denunciare determinate situazioni di disagio come le case abbandonate che potrebbero essere rivalutate, riqualificate, ricreate per fini sociali. Dove magari si possa anche sì fare la musica non disturbando nessuno e coltivare arte e creatività che va tutto a favore a una questione anche psicologica di disagio sociale. Era una festa ed è stata rovinata e questo è un pensiero assolutamente non di parte. Però quando vedo le scene di inneggiare a un certo personaggio che, per quanto mi riguarda, non è neanche più degno di essere considerato un essere umano e quelli a braccio teso che gli andavano appresso inneggiavano, idem. Questo è il mio pensiero. Alla prox.